Da poche ore Marco Minniti è il nuovo ministro degli interni del nostro Paese. Con il governo Gentilone ha assunto la responsabilità di uno dei ministeri più importanti in ogni governo che si rispetta, appunto quello degli interni. Marco Minniti batte con questa nomina un primato, diventa ministro degli interni in Calabrese, pensate un po', dopo Giovanni Nicotera, cioè a distanza di oltre un secolo e mezzo da quella nomina, quando ancora c'era il Regno d'Italia. Marco Minniti viene dal Partito Comunista, dalla sinistra, ha una storia anche di polemica alle spalle, spesso lo hanno accusato di essere il parlamentare mai eletto, perché è eletto con la proporzionale quando c'era il Mattarellum o nominato nel sistema elettorale successivo. Polemiche o meno, c'è da dire però che Marco Minniti ha ricoperto ruoli delicati, come quello alla difesa durante la guerra nel Kosovo, ma anche quello ai servizi segreti in questi anni di terrorismo internazionale, dove l'intelligence italiana si è dimostrata all'altezza di difendersi e difendersi dagli attacchi di terrorismo internazionale. Questi ruoli non c'è che dire, Marco Minniti li ha svolti sempre con grande professionalità. Ora molto probabilmente assume il ruolo politico più importante della sua carriera. Ci auguriamo che questa nomina sia un segnale importante, una tappa importante della sua carriera, ma sia anche di buon auspicio per la nostra regione, una regione che ha tanto bisogno di buone politiche.